Una bomba di Love Island Casa Amor, ha una connessione sorprendente con il principe Ferri, che lei divulga nell'episodio di stasera. I fanatici di Love Island verranno a conoscenza di una sorprendente connessione reale con una delle bombe di Casa Amor durante una chiacchierata inaspettata con Mitchell Taylor. È giunto il momento che il vero dramma si scateni quando i ragazzi e le ragazze sono stati divisi in ville separate e Casa Amor, ampiamente conosciuta come la prova finale, a inizio. Le ragazze di Casa Amor sono entrate nella villa principale la scorsa notte, domenica 2 luglio, con i ragazzi sbalorditi nel vedere il ritorno della star originale Molly Marsh, e in particolare il suo ex interesse amoroso Zakaria Noble. Oltre alla bionda creatrice di contenuti sui social media, gli uomini sono stati presentati a Think Reading, Daniel Magindu, Abby Morris, Amber Wise, e Gabby Jeffrey. Punto. È durante una conversazione che si svolge tra Mitchell e Abby che alzerà le sopracciglia nella puntata di questa sera, mentre rivela il suo legame con il principe Ferri. L'assistente di volo di 25 anni ha detto a Mitchell, che quando era piccola trascorreva del tempo con il principe Ferri e il principe William, e conosceva persino la defunta regina. Ha iniziato. Ti piacciono gli animali? Avevo i cavalli. Vivevo a Sandurst, dove si trova la Royal Military Academy. Ero solito tenere il mio cavallo lì dentro. Quando ero più giovane non sapevo che fosse strano cerano il principe Ferri e il principe William. Non avevo letteralmente idea che la gente non li conoscesse.